Entra anche Mammoletto, tutto pronto, partiti i cavalli dell'ultima corsa da Capannelle. Veloce dall'interno Ermo Colle che cerca di portarsi in vantaggio ma al suo esterno è ancora più veloce Okinawa, questi due che prendono la leadership. In terza posizione c'è Lady Matilde, poi Kaed all'esterno di questa, Blue Martial quinto all'interno, poi Mammoletto e Dragonforce che chiudono il gruppo ben raccolto. Un'andatura piuttosto veloce, quella imbastita da Ermo Colle che entra addirittura in vantaggio nei confronti di Okinawa. Poi Lady Matilde, Kaed, una seconda linea formata ancora da Blue Martial, Dragonforce con Mammoletto e Don Stommerana che adesso si avvicina ai primi. Okinawa adesso è passata in vantaggio e deve respingere Lady Matilde ma all'esterno di tutti si presenta minaccioso Kaed. Gli altri che in questa fase guadagnano poco, l'unico è Don Stommerana che si getta per Varchi. Kaed è ancora completamente non richiesta, 200 dal palo, cerca di allungare, è ancora vitale Lady Matilde, ancora più all'interno c'è Don Stommerana ma 100 dal palo. Kaed sta controllando la situazione, l'unica minaccia è Lady Matilde ma Fabio Branca ha fatto bene i conti e vince questa corsa. Ne confronti Lady Matilde, Don't Stop My Run. La chiude un favorito a segno come Kaed, Fabio Branca in sella, appunto Luciano e Gabriele Bietolini al training, i colori sono quelli del quadrifoglio. La quota al totalizzatore è di 3,39. Al secondo posto Lady Matilde e al terzo, Don't Stop My Run. È tutto per l'ultima da Roma. Grazie. 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 Grazie.